Il Don Quixote è sicuramente il più celebre romanzo della letteratura occidentale ed è considerato il maestro, la pietra miliare del romanzo moderno. L'immagine che la figura del Don Quixote evoca al nostro immaginario è quella di un anziano signore, Cervantes dice che il suo personaggio quando comincia le sue avventure era sulla cinquantina, un anziano signore allampanato, ingabbiato in un'armatura di ferro, con un elmo sulla testa che in realtà è una bacinella da barbiere a cavallo di un ronzino spelacchiato con una lancia in mano e accompagnato da una specie di scudiero che in realtà è un contadino tarchiato e grassottello che si chiama Sancho Panza e che cavalca un asino o più sovente lo trascina per la cavezza. Siamo in un borgo della Mancia in Spagna agli inizi del Seicento dove vive un signorotto di nobiltà campagnola. Don Quixote invece è un piccolo proprietario terriero di terre che fra l'altro fruttano molto poco e si tenta anche andare avanti, quindi è una piccola nobiltà terriera la sua. Il suo ronzino è in realtà un cavallo per arare i campi, serve per fare i lavori dei campi. In casa ha una nipote, una ragazzina di 20 anni e una vecchia domestica. Il suo vero nome è Alonzo Quixano però ha un soprannome nel villaggio, viene chiamato Quesada o Qijada e il soprannome è anche un po' malizioso perché Queso in spagnolo significa formaggio. Dunque Don Quixote è un uomo di cultura, un uomo che legge, ama molto alla lettura, la ama a tal punto che proprio a un certo punto abbandona tutto, i suoi impegni quotidiani e si immerge nella lettura, non fa altro che leggere, legge dalla mattina alla sera. Questa immersione totale nella lettura gli fa perdere il senno. Si era immerso tanto nella sua lettura che passava giornate dall'alba al tramonto a leggere e dal tramonto all'alba, quindi giornate intere a leggere e così dal fatto di dormire così poco e da leggere troppo a un certo punto gli si seccò il cervello, gli si prosciugò il cervello. Cervantes si innamora però della lettura, ma di un certo tipo di lettura, che è il mondo che poi ricostruirà nella sua fantasia e che diventerà per lui realtà. E quali sono queste letture? Sono i romanzi o le novelle di cavallerie.